Ora, ho visto che ho visto che ho visto un M.U. per lo che è il assunto di Kiko Gómez, ma l'esercizio di un coraggio, se non c'è caso, posso aggiungere un coraggio di M.U. per lo che è il problema. Qui c'è un di altri tre giorni di nostra ponte, e il M.U., la Kiko è il passaggio di una imprensa colombiana, e non solo un articolo, viene un articolo di 4, 5, 6 di mei, al che è anche un personaggio di mancanza di 7, e il M.U. è il suo lavoro di firmazione, qui è in Aruba. E poi c'è un articolo di un embajatore, Robert Van Abden, che è stato in Aruba e che è stato declarato in prensa che Aruba abbia firma un MOU intensivo, con cui la Colomia è specificamente guajira. E poi c'è ora, noi, come membri del Parlamento, ci sono le pregunte al Ministro Eymann se il MOU è stato a firmare per non avere una copia di questo. E come il Ministro Eymann non è ancora in persona, non è stato a contestare le pregunte, non è stato a enfrentare la camera e non è stato a explico ai poboli qui, e poi c'è un articolo che è stato in Corante, un periodista scrive che non è stato a firmare, ma ora mi ha detto che è stato a governare l'Aruba, è un periodista che scrive l'articolo di un ministro Presidente del Paese. E poi c'è ora, mi ha detto che ci sono, che è stato un capitolo di Kiko Gómez, ma non è stato un capitolo di Kiko Gómez, ma non è stato a contestare le pregunte, è stato a contestare le pregunte, di avere un ministro Presidente che è il coraggio sufficiente di parare l'anticamara, di explica il suo pobolo a cui è pen e di contestare le pregunte con il Parlamento.